Secondo la tradizione Bilderberg, la terza giornata degli incontri è quella della scampagnata fuori porta. E così gli invitati vengono portati a visitare la città che li ospita, qualche museo e infine a una grande cena. Dalle 6 di sera di sabato c'erano già di fronte all'hotel Eurostars Mirasierra i pulmini che dovevano portare tutti questi banditi in giro. E inevitabilmente la polizia del regime ha schierato tutta una serie di spettacolari misure di sicurezza. Infatti perfino per gli standards normali di questa specie di sessione spiritica i livelli di controllo della polizia quest'anno sono stati particolarmente intensi, ma tutta questa messa in scena dei grandi poteri occidentali contrasta con l'assenza assoluta sia di giornalisti del mainstream sul luogo come di notizie dell'evento sui giornali. Gli unici che hanno il coraggio di essere presenti e farci sapere quanto sta accadendo sono la giornalista indipendente spagnola Cristina Martín Jiménez e un gruppetto di giornalisti anche loro indipendenti canadesi e inglesi tra i quali Dan Dix e Charlie Skelton. A proposito, quando questo piccolo gruppo ha cercato di inseguire la sinistra comitiva nella sua scapatella madrilegna, sono stati immediatamente fermati dai mercenari sotto le vesti di forze dell'ordine che per 40 minuti li hanno ritenuti ispezionando i loro documenti, i loro zaini e la vettura nella quale viaggiavano. E tutto questo circondati da altri sbirri armati di Mitra, insomma una vera dittatura pagata con le nostre tasse. La giornata di sabato si è conclusa con una lauta cena offerta dalla presidente del Banco di Santander, Anna Botin, abitue di Davos e presidente anche dell'Istituto delle Finanze Internazionali. La Botin, naturalmente con i nostri soldi, è stata la principale sponsor della Summit Bilderberg di quest'anno a Madrid. Per finire ricordiamo che in questi giorni i fasti non solo vengono all'interno dell'ormai infausto Eurostars Mirasierra, ma anche sui celli della Capitale della Spagna.